Dopo il varo della riforma dell'ex provincia decisa dall'Assemblea regionale siciliana, adesso si punta decisamente al passaggio di Gela alla città metropolitana di Catania. Non soltanto Gela, ma anche Niscemi e Piazza Almedina, comuni che hanno deciso di emigrare dagli attuali liberi consorsi di Caltanissetta ed Enna. Filippo Franzone, coordinatore del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. La riforma appena avverata non è altro che una modifica di quello che era la legge 15. Era stato chiesto dal Consiglio dei Ministri una modifica su alcuni articoli e questa è stata fatta. Nulla implicava però il fatto che il passaggio territoriale poteva avvenire anche prima di questa modifica, può avvenire anche oggi. Insomma il passaggio territoriale di questa riforma è legato al disegno di legge governativo che deve produrre appunto il governatore gelese e Rosario Crocetta. Io l'appello lo faccio a tutti i luogotenenti e a tutte le persone vicine a Crocetta gelesi nel spingere appunto il governatore a produrre il più presto possibile questo disegno di legge. Diversamente saremo costretti da gelesi a dover denunciare materialmente attraverso la magistratura questa condotta che non è di certo una condotta rodevole. Dal paladino dell'antemafia, dal paladino del rispetto e della giustizia ci aspettiamo che venga applicata la legge. Non deve fare altro che applicare la legge. Dai comuni interessanti all'emigrazione verso Catania sono partite più iniziative democratiche per cambiare la geografia siciliana. Ci sono già atti di diffida eseguiti. La Lantieri ci ha fatto sapere, dopo la diffida che abbiamo fatto i comitati di Gela Piazza Almerina e Niscemi, ci ha fatto sapere che i disegni di legge sono stati già inviati 2 ad ottobre, cioè quello di Gela e Piazza Almerina sono stati inviati al governo ad ottobre e quello di Niscemi è stato inviato al governo il 16 gennaio. Dal 16 gennaio, ci troviamo oggi al primo aprile, credo che sia abbastanza tempo, produrre un disegno di legge è una cosa che impiega pochi minuti e null'altro. Quindi vuol dire che a questo punto dobbiamo cominciare a sospettare che non c'è la volontà del Presidente della Regione. Se ne deve fare una Regione anche lui, qui le scelte sono state fatte, sono scelte democratiche, la democrazia va rispettata. Dunque sostanzialmente al momento attuale nulla osta al passaggio di Gela, Niscemi, Piazza Almerina, alla città metropolitana di Catania. Nulla osta e si deve fare il più presto possibile perché tra poco bisognerà organizzare anche le elezioni per gli enti intermedi che saranno di secondo livello, non parteciperà la popolazione, parteciperanno i consiglieri comunali e noi gradiremmo che Gela, Piazza Almerina e Niscemi scegliessero gli amministratori della città metropolitana e non quelli ovviamente del Libero Consorzio di Caltanissetta.